Insigne, smaltita la rabbia per la partita ultima col Brescia, smaltite anche le botte perché te ne hanno date tante? No, non c'è tanta rabbia perché l'importante è che non abbiamo preso punti, abbiamo guadagnato un punto e siamo sempre la seconda. Dobbiamo solo dare continuità ai nostri risultati e poi ci togliamo un sacco di soddisfazione. I difensori del Brescia non ti hanno trattato benissimo allargando il cerchio, però non vi hanno trattato benissimo. Parecchi gli interventi fallosi che Massa ha lasciato correre, si verifica un po' troppo spesso. Sicuramente le squadre che ci affrontano, dato che siamo ragazzi non da solo, c'è anche Verratti, siamo ragazzi bravi tecnicamente, le squadre a volte la mettono un po' sul fisico. Noi dobbiamo stare tranquilli e giocare come sappiamo perché se giochiamo come sappiamo mettiamo in difficoltà chiunque. Buon Pescara nel corso del primo tempo che ha saputo anche reagire, nel secondo tempo cos'è successo? Un calo fisico? No, nessun calo fisico, siamo sempre gli stessi, sia il primo che il secondo tempo. Vi ripeto, dobbiamo stare solo tranquilli perché ci nervosiamo quando non riusciamo a fare i gol e dobbiamo stare solo tranquilli che poi i risultati arrivano. Non è che ci nervosiamo facilmente, è solo che dobbiamo stare solo tranquilli perché giustamente c'è chiunque che vuole vincere. E poi in casa davanti al nostro pubblico non vogliamo fare brutte figure e appena quando non facciamo poi ci nervosiamo. Però dobbiamo stare solo tranquilli. Insigne, Ascoli una tappa importante, una partita però non facile che che poi ne dica la posizione in classifica degli Ascolani? Sì, sì, sicuramente non è una partita facile perché è un derby e poi loro stanno lottando per la salvezza. Ora noi non interessa perché noi dobbiamo lasciare i punti, dobbiamo andare là a giocare il nostro e poi sicuramente se giociamo il nostro faremo il risultato.